ragazzi noi vi vorremmo dare delle risposte sul perché la stream è scoppiata per una seconda volta o meglio la prima ve l'abbiamo detto purtroppo è una cosa comune che fa un mini crash e poi riparte in questo caso non l'ha fatto in questo caso non sappiamo che cosa cazzo è successo non ne abbiamo la più parida idea è un peccato perché si spezzerà i VOD però raga purtroppo è andata così noi adesso finiamo lo wufufu che avevamo iniziato e poi chiudiamo noi di nostra volontà questa serata molto frastagliata però prima di chiudere rimettiamo lo wufufu che era i migliori genitori dei cartoon animati fatto dall'uomo verde e a proposito del suo nuovo uomo verde ruttino ringraziamo il suo nuovo uomo verde per il follow grazie mille caro e benvenuto nella nostra community allora e non so vabbè giustamente devo aspettare che rimetta e streammi sul disco no ah non ve lo sta ok ve lo streammo adesso vabbè il primo matchup ve lo dico subito i genitori di Ash o meglio la madre contro Recold il padre di Freezer bello hit che comunque devo dire Recold non è il peggior padre che abbia mai visto no gli ha lasciato gli ha lasciato un impero il figlio si è prodigato per riprendere il figlio letteralmente a un passo dalla morte nello spazio e ridargli una forma meccanica quindi male non è il discorso è che la madre di Ash di Ash ho detto in inglese in realtà è un personaggio che si vede abbastanza insomma smash voglio dire dici io non me la ricordo minimamente sa che io di pokemon ho visto poco però io lei non me la ricordo minimamente allora aspetta scusami il sommo verde giustamente ha chiesto cosa vi è successo non lo sappiamo siamo esplosi senza allora io regista di questa live non sentivo più i miei brothers non so se loro sentivano me no è nulla è andato un po' tutto è ripata la live è ripata come si chiama il programma di stream di stream labs è stata una rapida escalation di disastri però onestamente Andre dimmi pensavamo ti fossi offeso di cosa no 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 ma perché prima Federico era partito in una in una supercazzola non si fermava più sì mi hai fatto bestemmiare sì sì mi hai fatto bestemmiare ma non c'entrava no ma più che altro volevo volevo chiedere un punto perché ci allora perché ci sono due versioni di bardak attualmente nel canone di dragon ball c'è la versione del film e c'è la versione di cioè quindi bisogna chiarire un attimo perché sono anche due personaggi molto diversi cioè quello del film di broly manda via goku per salvare l'esplosione del pianeta quell'altro ne fregava una sega esatto cioè questo volevo chiarire perché era questo che volevo chiarire però in quell'immagine c'era anche la mamma che quindi cioè c'era proprio l'immagine del film quindi considererei canonico quello anche perché il bardak di prima era anche magari non canonico cioè era appariva tipo era canonico nella scena in cui moriva insieme al pianeta vegeta con tutti sì no ma il problema è che quella versione lì di bardak era quella del film vecchio non era quella di quello nuovo però vabbè comunque in che senso no nel senso la tuta da battaglia che indossava bardak nell'immagine l'abbiamo visto prima era quella del film degli anni 90 non era quella del film di broly solo questo per questo c'è un po' di confusione in tutto il senso appena ci riesce vediamo vediamo un attimo capiamo quale valutare intanto per il meme qua darei il voto a king cold comunque sì ma cazzo lascia l'impero al film ma ti stai scherzando poi va che corna ma si blocca ogni 10 secondi sbrigiamoci nel senso che no aspetta ma la stream va liscia vero non è un problema tuo cioè è un problema tuo di connessione mike dagger lo chiedo perché se no dobbiamo rimettere a posto di nuovo della roba comunque ci siamo e qua io dico i genitori di leo oddio no a parte non sono i genitori però comunque diciamo sono i padroni i padroni allora omerge omerge cosa ho detto omerge omerge omer e marge non sono come peter e lois nel senso che comunque si vede nella serie che vogliono bene i figli dopo poi omer omer strozza bart tutto eh però sono dei bravi genitori dai adesso si blocca nelle altre stream va bene ok buonasera nicola stiamo facendo uno bufufu divertente il problema sai qual è andrea è che come nei griffin anche omer e marge alla fine deragliano quei personaggi però ti direi sì anche io omer e marge cioè io mi ricordo la puntata di omer che compri il sassofono a lisa o vabbè l'immagine non è diventata famosa do it for her con l'immagine di meg quindi ti direi omer e marge di default anche perché raga l'altra parte c'è giustino che no no ecco il discorso è questo no no stupido cane mi fai sembrare un mostro passano i simpson perché è un 2 contro 1 cioè non può da sola lei marilu ok non può marilu da sola battere perché marilu è un angelo giustino è un coglione quindi per questo motivo purtroppo vincono i simpson dico purtroppo perché sì a me i simpson non fanno pazzire fate che cazzo vi fare e attenzione no non ho detto sono brutti ho detto non fanno pazzire il re vegeta mamma di cosmo re vegeta un chad non speak since don't speak to me don't talk to me bye bye eh bye bye l'ha fatto il pianeta eh l'ha fatto il pianeta bye bye boh vegeta si è un chad però l'hanno un po' cioè si è fatto mettere un po' si è fatto stuprare un po' da tutti diciamo sì è morto come un coglione diciamo le cose che mi stanno sì volete votare la fata no no King Vegeta assolutamente no la mamma di cosmo è proprio stronza di livelli incredibili sì guarda anch'io col king sembra la versione karen della fatina dei denti poi guarda il dito guarda il dito le mancano solo gli occhiali i dentoni per essere un nerd cioè guarda è già pronta con l'ex un nerd sì esatto metti re vegeta attenzione si va con ecco lì li abbiamo citati prima ah a proposito contro la madre di Tom io ti direi madre di Tom ma Tom chi sarebbe la padrona di Tom di Tom e Jerry io ti direi la madre di Tom no più che altro perché a me quello che sono diventati Peter e Loist dopo mi fanno di uno schifo mi fanno incazzare e basta posso dirti Lois tanto tanto ha dei grossi problemi ma il vero criminale di guerra è Peter cioè Peter e ragazzi no ma anche ma anche Lois ragazzi no ma lei è un disastro Lois poi impazzisce ma Peter quello che fa i figli non ha senso raga quello che fa a me no 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 ragazzi cioè Lois è scema è un disastro ma Peter è un disastro al cubo neanche al quadrato c'è proprio veramente un criminale fatto e finito solo per questo direi stiamo parlando del miglior genitore sono due genitori terribili Peter e Lois e quindi andiamo con la padrona di Tom di Tom e Jerry mi sembra sensato no ma proprio Peter è proprio l'emblema di quanto sono caduti in bassi Griffin si fa ridere si fa ridere Peter però si greve no a un certo punto neanche a un certo punto neanche ti fa ridere proprio attenzione i genitori di un che pollo si ma neanche stare a discutere che bello un che pollo si si ma dai ma lanciano lanciano i sederi di maiale ai figli con una catapulta si si ma poi Cosme e Wanda puff non l'hanno trattato bene attenzione Bulma e Vegeta contro la madre di Kart no ma Bulma e Vegeta assolutamente Bulma e Vegeta ragazzi Vegeta c'è uno sviluppo di personaggio incredibile anche nello Z Vegeta come padre è molto meglio di Goku si vero stranamente preferisco il Vegeta di Super rispetto a quello dello Z eh si è meno cagacazzi ma ha senso perché in Z in Z tipo in ogni saga si sono il principe poi fa le stronzate poi gli ha le botte invece in Super è tutto Copium guarda è più maturo giusto durante la si ma giusto durante la saga di Majin Bus è un po' meglio poi insomma quella di tutte le altre era sempre nella saga degli androidi che lascia che se la sorba a chi C18 per farlo evolvere e poi ci prende un cazzo enorme ma anche la figura di Mario si è fatto prestare da C18 dai si ma va a nascondere ha detto eh ma sei una donna infatti l'ha distrutto eh giustamente e io sono fan ma ci godo questi sono fatti oggettivi si anch'io anch'io oh tornano i giorni no no mister satan di default cioè lui è il più grande di tutti si ma come vuole bene la sua figlia nessuno infatti gli vuole un sacco di bene la vizia senza esagerare troppo perché lui è letteralmente l'uomo più ricco del mondo è uno degli uomini più forti lui non ironicamente è uno degli uomini più forti del mondo tra gli uomini normali si cioè è sotto Krillin se non sbaglio cioè sotto Krillin sotto i guerrieri Z perché lui comunque è forte diciamo che tra quelli che non usano il chi si è tra gli umani più forti si tra i normali più ammettiamo mister satan dai poi mi ricordo il budu kaitenkaichi 2 era divertentissimo da utilizzare è vero bellissimo allora attenzione abbiamo gohan e videl no qua videl è minorenne pure gohan non è proprio la versione da genitori però contro ma poi il professore madonna delle super kick ma poi sarebbero i genitori di pan non di videl cazzo si è vero ha sbagliato e comunque come genitori loro non sono male no io ho visto super posso dire non so male come genitori io purtroppo il professore delle super kick non me lo ricordo bene io me lo ricordo e c'è mi ricordo anche un'azione divertente che il professore delle super kick è in realtà samurai jack del passato non è così però era divertente perché comunque c'ha la forma ha qualcosa vero io ti direi ah la faccio un po' da pederasta però il padre delle super kick un pochino però sai io ti direi great saiamen tutta la vita uno e due sono i great saiamen no anche io ma è bello che stanno passando tutti quelli di dragon ball no ma aspetta però sai cosa io forse te la vedo perché sai qual è il problema è che alla fine chi cresce veramente la famiglia di goku e di gohan è sempre lui piccolo e se non c'è piccolo se non c'è piccolo mi incazzi è vero qua ragazzi ma piccolo ma piccolo lo sapete che vincerebbe di default beh sì qua ragazzi vince Geppetto perché Geppetto è letteralmente la cosa più bella e amorevole di questo mondo invece i genitori non sono male ma sono mid Geppetto non è mid è un grande quindi passa Geppetto peccato che la versione della Disney qui però vabbè eh vabbè sì vince Geppetto o smash per la mamma di Marco vince Geppetto vero bravo attenzione nonna di Silvestro e ti da nonnina dell'unitoons addio questo è tosto perché comunque il padre di ieri è severo è anche un po' stronzo però è un figo è un chad sì no poi tenendo conto che insomma ha perso la moglie vuole proteggere la figlia un po' lo capisci non lo senza non la provi però capisci perché lo vuole lo fa più che altro per proteggere la sua figlia e addirittura rinuncia a tutto pur di salvarla cioè c'è di regno a Ursula però per amore della figlia quindi ti direi padre di Ariel guarda te lo dico anch'io ma giusto perché i migliori genitori mi ha messo la nonna stona un po' vabbè è Mufasa contro i due della capsule corporation che tra l'altro mi sono rivisto mi sono rivisto ieri notte alle due lol l'episodio di Drago dove Goku dopo la muscle tower torna in metropoli e conosce per la prima volta il genitore di Bulma è bellissima me l'ha puntata fa troppo ridere cazzo madonna mi sono buttato fuori dai ridere è un po' di toscano quindi no vabbè però Mufasa ragazzi è un chad che cazzo gli devi dire che significa per salvare i figli cioè solo per quello vale eh sì un grande W per i genitori di Bulma ma Mufasa è proprio di un altro livello e il padre di Pigli e Mendi il padre della Pipa chi cazzo è il padre della Pipa? è Armando il Duca Armando ragazzi tutti gli baciano le mani perché è un mafioso in realtà e quindi per questo lo farei passare sì Don Armando ho detto Duca ho sbagliato Don Armando Maradona scusate mi state dicendo che avete visto La Sirenetta certo è chiaro ma da piccolini sì è un classico allora i genitori di Tsubasa Osora in realtà non sono granché perché il padre di Tsubasa è Olly di Olly e Benji perché non lo so ah ok non conoscevo perché questo è il remake è quello più recente allora il padre è un capitano di nave la madre invece la segue il figlio d'altronde è un bambino ci sta segue il figlio si sono spostate tutto e quindi vi dirò la madre mezzo e mezzo in realtà niente di che il padre è abbastanza chill i genitori di Tumi Tarner sono dei cretini ma ma sono molto molto più intrattenenti ragazzi sono iconici ma ti credo ma guarda si sono ritagliati il loro spazio ma poi Dinkelberg lo zabaione o qualsiasi cosa che tocca muore della madre bellissimo il delfino che piangeva e fa il verso del delfino tante cose mi ricordo e tutte belle quindi i genitori di Tumi Tarner penso vado in avanti si 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 allora ultimi tre abbiamo ecco Goku e Cici uub 3 derby di Dragon Ball attenzione oddio ok qua c'è il discorso da fare io ti direi Krilin e C18 ma si ma perché Goku l'abbiamo detto che è un genitore un po' di merda poi Kiki ci sta un cazzo quindi si però c'ha ragione Krilin buon padre C18 buona madre dall'altra parte non c'è nemmeno il buono quindi esatto eccoci qui ecco qui si ritorna al discorso di prima quale vogliamo tenere in conto chi cazzo è questo qui poi scusa secondo Andrea chi cazzo è questo qui c'è una foto a destra a destra sono le antifate no no ve lo spiego io no aspetta lui dice aspetta dici questo qua in basso a destra nella foto di infatti questo chi cazzo è dobbiamo valutare anche lui quello è il vostro caro Dexter chi cazzo scusate no non ho visto allora a destra ci sono le antifate sono anticosmo antivanda che sono dei genitori di merda e quindi di default passano Bardak e lei non mi ricordo il nome l'avevo saputo il nome ma non me lo ricordo più ne parliamo dopo parliamone dopo di loro si chiama Gene comunque grazie grazie non mi ricordo allora scusate ultimo round mamma di Johnny bravo è bello questo è mamma di Johnny bravo ma di default dai i genitori di Dexter che cazzo è uno stereotipo americano degli anni 60 letteralmente scusate il padre un un lobotomizzato con il cappellino va bene mi spiace però me ne immagino i genitori Trunks vedete e Bulma si 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 ecco ora possiamo chiacchierare eccoci allora io direi comunque per me poi in caso votiamo considererei quelli canonici ovvero quelli del film di Broly l'ultimo e allora i genitori di Goku sono d'accordo Andrea prova a parlare perché non ti si no non stavo no no non si sta parlando mi sa esatto no perché non sentivo mutarti all'improvviso e guardate e merda perché Gohan e Videle sono più bravi a fare i genitori però sono molto meno eh bucano meno lo schermo di loro due ragazzi poi ragazzi io ritorno a ripetere la famiglia Goku è cresciuta da piccolo fine vero è un dato di fatto non possiamo passare Gohan e Videle anche perché sennò diventa veramente l'ufufu dei genitori di Dragon Ball eh sì ma poi ma poi avrei votato comunque i due vantogenitori qua Mufasa mi dispiace Armando il Don ce l'ha già provato oh oh Mr. Satan eh sì chiaro Mr. Satan sì vuole un bene dell'anima ma la figlia è Majin Bu è la mamma di Johnny Bravo la mamma di Johnny Bravo ok io non sono non ho mai visto Johnny Bravo quindi mi filo di voi no no guardo perché è figo ma che aspetta aspetta c'è un commento ragazzi dalla prima alla quinta stagione dei due fantogenitori Paramount Plus ho dovuto ridoppiarla perché praticamente c'erano più i diritti del vecchio doppiaggio sì l'ho saputo l'ho anche sentito ed è veramente una merda complimenti ben fatto e lo dico da grande estimatore di doppiaggio purtroppo non c'è Mattia che è dovuto andare via perché aveva degli impegni già da un pezzo fissati a quest'ora io e lui siamo molto no no anche Andrea noi tre siamo molto apprezzabili di doppiaggio quindi sì io chi l'ho sentito vi posso dire no non ci siamo non come nella nuova stagione anime di Pokemon ragazzi no era meglio in originale con i sottotitoli allora vediamo un pochino il padre di Ariel sì il padre di Ariel pulito ultimo round poi si va ai quarti Geppetto Geppetto sì sì perché non muore come uno stronzo esatto vero e bello eh vabbè dai ti devo dire questo è bello questo lo sai che quasi fa si finisce veramente tra Dragon Ball versus Dragon Ball eh secondo te quindi passa nei genitori di Goku secondo me sì secondo me è difficile no perché il rischio è che ci troviamo Vegeta e Bulma contro Bardach e Gina io non lo so perché da una parte comunque ragazzi il padre di Ariel come hai detto sì potrà sembrare iperprotettivo uno che un rompicoglione ma è tutto giustificato ha i suoi motivi è tutto ampiamente giustificato quindi secondo me fa un bel lavoro è stato un bel lavoro di caratterizzazione quello di di Nettuno Nettuno sì no non è Nettuno siamo a Nettuno Tritone 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 è sbagliato scusate e secondo me comunque è re dei mari quindi cambia poco io dico lui dico lui almeno lui ha potuto fare il genitore sì effettivamente attenzione eh beh ragazzi questo l'è tosta beh questa è la finale anticipata ai quarti qui abbiamo ultra ricchezza contro ancora più ricchezza non forse è più ricco Mr. Satan non lo so oddio no penso che Bulma sia più ricca sai è letteralmente prima e seconda famiglia più ricca al mondo di Dragon Ball quindi non importa allora che si fa considerando che uno è un padre da solo e l'altro sono padre e madre boh io apprezzo di più l'evoluzione del personaggio perché Mr. Satan è un personaggio incredibile divertentissimo vero però ti direi Bulma e Vegeta più che altro perché ho apprezzato di più l'evoluzione di Vegeta come personaggio ecco è diventato un genitore che comunque si si Google si conferma che Bulma ha tenuto la sua ok bene no no è proprio un giusto check dite Vegeta e Bulma va bene va bene era molto equilibrato e Geppetto ragazzi la mamma di Johnny Bravo no Geppetto la mamma di Johnny Bravo no 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 Geppetto Geppetto è l'amore di un padre eh la mamma di Johnny Bravo è l'amore di una madre beh ma il Geppetto però ha a che fare va bene ha vinto Geppetto perché eh si Mufasa eh si Mufasa easy arriviamo alle ai quarti eh Mufasa Mufasa si io voglio un bene dell'anima Geppetto ma Mufasa si sacrifica che dobbiamo fare attenzione ma ti direi è qua entrambi eh va bene sono in due 2v1 è una finale strana è una finale strana Vegeta e Bulma io ti direi io ti direi comunque Vegeta e Bulma perché anche perché tu dici eh ma Mufasa si sacrificava per il figlio e anche Vegeta si è sacrificato contro Majin Bu sì ma Vegeta poteva rinascere non è valido eh non era detto sì perché no sì ha senso ha senso però Mufasa ha troppa saggezza troppo gli voleva troppo bene cioè se non sbaglio aspetta però se non sbaglio Vegeta non poteva rinascere in quel momento perché era già rinato su Namek hanno dovuto potenziare le sfere è vero teoricamente non poteva rinascere però alla fine sti cazzi però in realtà aspetta forse perché erano delle sfere di Namek anziché quelle della terra quindi ma se non sbaglio è stato Dende è stato Dende a potenziale una roba del genere comunque che poi sono passati a tre desideri invece che uno si era così e Toriyama che fa Toriyama insomma allora vi posso dire anche contando solamente il padre è una gran gran gara è una gran gara vaffanculo perché Vegeta non è un patraccondiscendente è uno che comunque poi c'è un'evoluzione sempre costante alla fine per i figli lui è disposto a fare qualsiasi cosa perché ricordiamo che poi sono figli perché poi c'è anche Bra io non ci scordiamo di Bra e dopo attenzione mi dica male Mufasa si è un grandissimo leader un gran padre ha fatto il gesto più incredibile che può fare un padre sacrificarsi per il figlio però c'è da dirlo anche contando solamente padre e padre è molto equilibrata se poi consideriamo che dall'altra parte c'è sta Bulma dall'altra parte la madre di Simba dove cazzo sta io voterei invece di Bulma onestamente aggiudicato giusto da gran gran vittoria questa ottima ottima vittoria vediamo i migliori genitori chi vince secondo la community che principalmente vota i genitori Timmy Turner ok non capisco non cate leone ah Peter e Lois Peter e Lois terzo posto va bene vabbè hanno votato per il meme ci sono allora non mi puoi mettere come Gif lì accanto non a quest'ora è pericoloso capito siamo ancora in pace protetta manca loro un quarto Goku e Kiki esatto esatto io ricordo che esiste un Umu Fufu dei loghi delle squadre che vi giuro è veramente una delle cose più incredibili di sempre per la cronaca ovviamente noi adesso abbiamo finito però comunque lo faremo gli Umu Fufu qua ma ti giuro è un Umu Fufu enorme ovviamente non lo faremo full perché ci vogliono conosco dei ragazzi che l'hanno fatto full ci hanno messo quattro ore madonna capito è ma enorme hai visto prima che si è detto 311 personaggi di due fantagenitori è tantissimo eh quelli erano 600 loghi capito qual è il discorso noi lo facciamo da 64 capito lo facciamo dai 32 senza stare troppo tempo ma si alla fine sono loghi sono loghi delle squadre è bello comunque noi e lo faremo hai ragione perché è bello e non c'entra poco alla fine il fattore della squadra c'entra tanto il lato estetico e lì noi siamo giudici di niente siamo a per giudicare perché siamo su Twitch e vai e quindi abbiamo finito allora io ringrazio e ringrazio a nome di noi tutti insomma uomo verde per averci detto che ha fatto questo questo wfw l'abbiamo fatto molto volentieri e per il follo prima magari non c'era non l'ha saputo ma grazie mille per il follo credo che i personaggi dei due fattagenitori siano più di 600 contando anche quelli che pagliano per pochi secondi sì ma quelli personaggi i personaggi sono un minimo caratterizzati se no non sono personaggi sono comparsi i personaggi di One Piece che sono più di 1100 mi sta uno dedicato a Milano io mi sono fermato a Fishman Island no no io mi ero fermato a Skypie era subito dopo il time skip di due anni quando salgono a Luffy allora a Fishman Island però poco prima cioè tipo lui ritorna sull'isola dei draghi celesti l'arcipelago Sabauri comunque che vi posso dire perché poi mi sono rotti i coglioni onestamente che miscredente no allora il problema è che c'è una certa più che altro era la colpa della programmazione di Italia 1 ah vabbè se seguivi su Italia 1 allora ok cioè stanno facendo modress rosa calcola no sono a fine almeno almeno dai sono lenti ma almeno sono a fine dress rosa ci mancava altro e cosa c'è dopo dress rosa signor Pirisi dopo dress rosa ci sta figa ci sta all kick island yes grande arco vabbè ragazzi io abbiamo finito una notte no no intanto stiamo a chiude e vi posso dire noi ci rivediamo settimana prossima con qualcosa in pentola ricordo sempre ragazzi se volete sapere cosa facciamo le storie instagram sul nostro profilo c'è il comando apposito punto scrammativo instagram serve a voi per rimanere aggiornati se non seguite io vi dico buonanotte e grazie per chi ha followato chi ci ha dato un po' di compagnia in chat e chi è stato con noi ciao belli buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti